In questo video voglio farti vedere un esempio di mangiatoia mobile per una staglia. In modo particolare lo scarico e la distribuzione dell'Unifid. In alcuni allevamenti, infatti, non c'è lo spazio per distribuire l'Unifid con il carro con una corsia molto ampia. In questa azienda questa problematica è stata risolta con una mangiatoia mobile, ovvero una mangiatoia in cui l'Unifid scorre lungo un tappeto trainato da una fune d'acciaio. Ora vi faccio vedere tutte le cose che ci si avvicina con il carro alla mangiatoia mobile. Si attiva lo scarico del carro e poi si attiva il tappeto mobile, che è quello che porterà l'Unifid, il totale di un'estimazione, agli animali in mangiatoia. Vedete come questo tappeto mobile scorre lungo una mangiatoia di circa 60 cm di puntezza, in modo tale che le bobine riescono ad arrivare a tutto. Eppure, ovviamente, la massa di Unifid viene portata lungo tutta la lunghezza della mangiatoia. Vedete come un piccolo motore elettrico intestata avvolge il cavo e consente di trascinare lungo questa mangiatoia un tappeto mobile che all'oncorrenza è anche intercambiabile. In questo modo l'Unifid arriverà a tutte le bovine. Guardate come il cibo procede gradualmente e lentamente fino in fondo alla mangiatoia. Ho fatto questo video per darvi la possibilità di vedere un sistema non molto diffuso, ma efficiente e pratico. Ho aspettato pubblicare il video fino a quando, dopo mesi, ho potuto valutare e approvare la validità del sistema. Condividete questo video con altri!